Salve! Carissimi visitatori e banchetari! Il bello del Ciber Paruk non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini dell'impossibile ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!